Non sempre è stato facile gestire tutto quanto, vogliamo dare un saluto anche a coloro che non ci sono, i danneggiati che non sono riusciti a partecipare visto le loro condizioni di salute, tra questi vogliamo ringraziare soprattutto, vogliamo mandare un saluto in particolare a Thomas, a sua moglie Diana e al piccolo Nicola, ciao! Ciao Nicola, piccolo principino, e soprattutto vogliamo salutare coloro che invece ci vedono anche se non sono materialmente quattro noi, che sono i nostri figli purtroppo deceduti a causa delle somministrazioni vaccinali, ciao Angeli! Ciao di cuore, grazie per esserci vicino a tutti i nostri, anche se la vostra credita non potrà essere ricompensata per nulla, questa giornata è anche per voi. Quello che volevo dirvi è questo, è semplicemente quello che ormai ripetiamo da tantissimo tempo, impossibile avere una legge che impone 10 vaccini, quando in realtà non siamo in grado di garantire che non esistano effetti collaterali alle vaccinazioni. Noi non siamo contrari, come continua a dire qualcuno, alle vaccinazioni in incontro, siamo contrari a questo sistema che ci impone di fare 10 vaccini una volta, che ci dice che sono tutti innocui, ma soprattutto che mente dicendo che non esistono gli effetti collaterali, se non esistessero noi oggi non saremmo qua, il Condor non sarebbe nato più di 20 anni fa, ma non sarebbe nata neanche l'associazione di Giorgio Tremante, neanche il Sentiero di Nicola, non sarebbero nate i RAV, l'associazione Reazioni Avverse da il vaccino HPV, non sarebbe nata l'associazione di Sauri, tutte le altre associazioni che ci hanno supportato, Cominiva, Corvenda, le altre associazioni che da sempre, al fianco delle persone da davanti, se c'è anche solo una possibilità, che esista una reazione avversa, bisogna lasciare la libertà di scelta. I genitori sanno qual è il meglio per i loro figli, nessuno vuole che un figlio muoia. Grazie a tutti.